Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa oggi e datemi un amato voi con i vostri commenti, con le vostre segnalazioni perché mi sono fatto due palle così a leggere tutti i giornali questa mattina. Sono estivi ma soprattutto c'è la solita identica dinamica. Qualche passo avanti sull'immigrazione, cioè sostanzialmente sui barconi che arrivano in Italia e sulla redistribuzione degli immigrati. Allora lì cosa succede? Ci sono i giornali che dicono sui 450 dell'ultimo barcone, un centinaio se li prenderanno Malta e francesi, questo è un grande successo di Salvini perché ha posto le condizioni per cui noi non stiamo a prenderci gli immigrati senza che nessuno parli e questa è una posizione. L'altra posizione è quella di dire il solito Salvini è un razzista, non serve a nulla, insomma è inutile che ve le sto a spiegare, buongiorno Rita, buongiorno Giovanni, buongiorno Marco, insomma un po' di amici stanno già ricollegandosi e allora insomma questo è il solito Tram Tram. Su questo Tram Tram ci sono solo due cose interessanti, cioè due lettere di Salvini. La prima è quella che manda al Corriere della Sera e che è quella più istituzionale e dice nel primo mese, dal primo marzo che sono qua, da circa un mese che sono qua, sono sbarcate 3716 persone rispetto ai 31.000 del 2017. Questo è un successo di Salvini? Non lo so, ma certamente si può dire che Salvini un freno anche ideologico al fatto del liberi tutti lo ha posto. Che altro vediamo? Mai successo tra l'altro che la Francia accettasse degli immigrati che secondo il Trattato di Dublino dovevano tornare in Italia, rimanere in Italia come è avvenuto nelle ore scorse. Altra lettera di Salvini, questa volta a Chiocci sul tempo, per chi tifa oggi il ministro degli interni, insomma lo dice molto chiaramente, figuratevi un po' voi se io mi metto a tifare Francia. Insomma il ministro degli interni oggi tifa Croazia e con la FIFA va su a Mosca a fare il suo tifo. E l'altra parte invece della giornata è quella scandita dalle cagate del decreto dignità. Sul decreto dignità la cosa che io vi segnalo con grandissima semplicità è che non c'è nessuna lobby contro il, come dice Giannini oggi su Repubblica, il complotto dei ragionieri. C'è poco da scorsare perché i ragionieri dello Stato non sono complotti ma sono dei rigorosi che non ti fanno passare nulla, tutti i governi si lamentano dei ragionieri. Però certo il modo in cui l'ha messo ieri Di Maio era quello del complotto, della manina, non c'è nessuna manina. Fanno sempre così e sempre qualsiasi governo gli hanno detto che devono stare nei conti e calcolare i numeri. E nei numeri è facilissimo il conto che hanno fatto ieri sugli 80 mila che si perderanno nei prossimi 10 anni, nonostante oggi Tridico, il consigliere marxista di Di Maio, si affretti con interviste al Corriere e analisi al Fatto Cotidiano a spiegarci per quale motivo questi numeri sono irrilevanti. Ma il combinato disposto del fatto che i contratti a termine dureranno invece che 36 e 24, che i contratti a termine costeranno di più, quindi i contratti a termine costano di più e durano di meno e avranno bisogno delle causali e dall'altra parte aumenterà il costo dei contratti a tempo indeterminato perché se tu vuoi licenziare aumenteranno le indennità. Tu avrai gli imprenditori a chi li prendi a schiaffi. Boom! Boom! Da una parte ti dici che non possono avere contratti a tempo determinato, dall'altra ti dici che devi prendere a tempo indeterminato, ma attento che se prendi una persona a tempo indeterminato e ti azzardi a licenziarla ti costa fino a tre anni di stipendio. È evidente che questo riduce la disoccupazione. Ci arriva un bambino A, B, C, A, B, C. Non bisogna aver fatto 15 anni di economia. Caro Tridico, come hai fatto tu e insegni? Io dico, poveri gli studenti, ti ridico, che categoria di studenti troveremo? Non perché sei un ignorante, anzi è molto più colto di me, ma per quell'ideologia comunista che lo contraddistingue, come si può vedere. Comunista, non sto esagerando, comunista, comunista vera. Cavaliere oggi fa un'intervista al giornale, cioè al mio giornale, gliela fa Salvini, gliela fa Sallusti, dice che Salvini sbaglia perché è in costante campagna elettorale e che governare è qualche cosa di più, anche se lo apprezza dal punto di vista della sua politica sull'immigrazione. Riguardo al decreto dignità dice le cose che dicono tutte le persone ragionevoli, cioè che fa schifo e che si perderà posti di lavoro, ma lo dico chiunque, forse non lo dicono soltanto Tridico e Di Maio. E riguardo al governo, l'unica cosa che forse è l'ultima domanda molto interessante, che cosa ci dice? Dio ci salvi dall'ignoranza economica dei socialisti, cita qualcuno di voi, di Luigi Enaudi. Fino a quando la Lega, questo governo durerà, fino a quando la Lega non si renderà conto che l'alleanza con il Movimento 5 Stelle non solo fa male all'economia di questo Paese, ma soprattutto fa male ai risultati elettorali della Lega. Quindi si accorgerà soltanto quando i suoi imprenditori, i suoi partite IVA, i suoi elettori, gli diranno ma che state facendo? Che state facendo? E quindi il mio invito che continuo a fare attraverso questa zuppa è far capire alla ragionevolezza della Lega che queste robe qua, tipo il decreto dignità e CETA, sono delle minchiate. Sul CETA purtroppo Meloni, Salvini e Di Maio si trovano nello stesso Calderone, nella stessa zuppa. È che oggi basterebbe leggere Cesare Baldrighi, leggetevelo, Meloni, Salvini, Centinaio, Di Maio, leggetevelo, leggetevelo, io direi soltanto la componente di centrodestra, leggetevelo con attenzione, Cesare Baldrighi, Presidente del Consorzio di Tutela del Grana Padano e il Consorzio che riunisce, mi sembra, le 170 italiane DOP e IGP, dice siete matti a cancellare il CETA, la cui cancellazione vale per tutta Europa se l'Italia si è alzata a cancellarla, perché è una procedura talmente assurda, per cui se un Parlamento nazionale non ratifica tutta Europa dovrà subirla. Delle 170 a 41 sono italiane, delle DOP e IGP che sono state accolte dal Canada e dice chiaramente il Presidente del Consorzio Parmigiano, Reggiano, non dell'aglio favoloso di Voghera, ma che vende 4,5 milioni di Euro, dice che sono rappresentate il 90% grazie all'accordo del CETA delle nostre export, il 90% e il 90% in realtà di questo export subirà dazzi non più del 238%, oggi c'erano dazzi, superate alcune quote, il Parmigiano Reggiano e dei formaggi del 240% in Canada, il CETA toglie questi dazzi e ha ridotto l'Italian Sounding e ha aumentato la ventita di Parmigiano Reggiano, ma questi non lo vogliono capire, questi ascoltano col diretti, non lo vogliono capire, io dico CETA ha morto, c'è ragione Vincenzo, è una roba allucinante, vi prego informatevi sul CETA, informate, fateglielo sapere, se no noi qua facciamo una di quelle cagate che ci porteremo a vita appresso. Il Sole 24 Ore dice che il governo sta andando avanti su una cosa molto sana, molto sana, e cioè la flat tax per le partite vive, le piccole e medie imprese, cioè estendere da 65 a 100 mila euro il cosiddetto forfettone, i cosiddetti regimi minimi, insomma un pagamento semplificato e ridotto di tutte le tasse. Non so quanto questo si possa fare perché ci sono delle norme comunitarie sull'IVA che non ti permettono di farlo, ma il Sole 24 Ore dice, avendo parlato un po' al Ministero dell'Economia, che si sta lavorando per ridurre appunto la flat tax, almeno per le partite vive, addirittura prima di agosto. Ultima cosa straordinaria, soltanto Gigino De Magistris può essere peggio del Movimento 5 Stelle, può essere peggio del Movimento 5 Stelle, e che cosa dice? Dice l'indennità ci vuole una, per coloro che occupano le case a, come si chiama, a Napoli, sapete qual è la novità? È che loro dovranno pagare un affitto ridotto, cioè non solo occupi le case, non solo ti mandano via, non solo togli i posti a quelli ingraduatori che stanno prima di te, ma sapete che cosa succede? E sapete che cosa succede? Succede che tu, una volta che hai occupato le case, gli dai il 50% del fitto comunque concordato e puoi stare lì. Quindi questa è la legge non della giungla, non del far west, non dei liberisti, questa è la legge di uno Stato che non tutela le persone per bene. È una cosa allucinante. Io oggi vado di corsa perché i giornali mi hanno annoiato mortalmente, non ho letto nulla di così divertente oggi devo dire sui giornali, se non, e anche sulla cultura c'è poca roba che va la pena di leggere. Un saluto a tutti quanti voi, vi do appuntamento come sempre, quindi esatto Cristian, quindi se delinco nelle case mi premiano, sostanzialmente va che il 50%. Qualcuno ci dica cosa serve il CETA, il CETA serve a ridurre i dazi in Canada, a ridurre i dazi tra l'Italia e il Canada, tra il Francia e il Canada, tra il Belgio e il Canada, tra tutti i paesi europei e il Canada. La riduzione dei dazi è cosa buona e giusta. Bene, chiarissimo. Il glifosato, mi chiede, il glifosato non fa male, il glifosato è una stronzata che faccia male e il grano al glifosato viene dal Canada e perché in Italia si produce meno grano di quanto se ne produca, di quanto noi ne abbiamo bisogno per il consumo. Chiaro? È molto semplice. Il glifosato non fa male, è una stronzata che faccia male. Il glifosato che viene utilizzato da tutti gli agricoltori come diserbante non fa male, come l'olio di palma non fa male. È chiaro? In tutta l'agricoltura esistono i cosiddetti pesticidi, anzi non si chiamano così perché la gente non ha più coraggio di fare così ed è il motivo perché si produce di più, si consuma meno acqua, si rovina meno il terreno e si sfamano 7 miliardi di persone a differenza di poche centinaia di milioni di persone che si sfamavano quando non c'erano i pesticidi. Chiaro? Benissimo. Poi la pace fiscale, anche questo è un altro tema, mi fate chiedere di cui si dovrebbe parlare, però è molto complicato perché c'è una rottamazione in corso. Bene, andiamo avanti, vi do appuntamento a domani con la zuppa di porro e ovviamente sul sito nicoloporro.it per tutti gli altri dettagli. Ciao!